Difficoltà nella conduzione familiare. Era una lotta continua senza gratificazioni. Queste sono le ragioni per cui l'extendine sempre organizzarsi. Fondarono una società promotrice di programmi, una società che comprendeva sia gli ospiti dell'orfanotrofio femminile che gli altri istituti di beneficenza. Nel 1902 il nuovo statuto conseguì una personalità giuridica, un decreto del Reggio Tribunale Civile di Milano. Per le ex avvie delle stelline fu raggiunto un grande obiettivo, tutto nella più completa osservanza delle regole. Venne stabilita una tassa di iscrizione e per le soci effettive l'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza. Per l'invalidità e la vecchiaia. Alla fine del XIX secolo lo stato assistenziale rappresentava ancora un lontanissimo obiettivo. E per le donne nessuno spercava un attimo di attenzione. Il ruolo della donna era inevitabilmente relegato alle mura domestiche. La società di mutuo soccorso delle ex stelline diede avvio alla emancipazione femminile. La prima sede fu in viazevedia. Non ci sono testimonianze o documentazioni precise. Sappiamo che ci furono molte idee ed una partecipazione attiva di tutte le ex stelline. La signora Carlotta Clerici fu la prima presidente, carica che tenne fino alla morte. Per l'intensa attività ci fu presto la necessità di trovare un nuovo alloggio. Arrivò nel 1933 un'offerta per una nuova sede in Corso Magenta a Milano. E' offerta messa a disposizione dall'Istituto. Questa sede era molto più ampia e confortevole. E si ritrovò il piacere immenso del vivere insieme. A testimonianza di questa solidarietà e fratellanza nacque nel 1933 l'idea di costituire l'unione tra le stelline che non si limitasse più allo stato economico e assistenzialistico ma che abbracciasse quello molto più vasto dell'anima. Uscì in quell'occasione il primo giornaletto, si chiamava La Stella. Si era così trovata l'occasione di raccogliere i racconti di tutte. I momenti di gioia, di spensieratezza ma anche i momenti tristi unite nella stessa comunione di affetti e di ricordi poterano così ancora trovarsi nella grande famiglia della Stella. Sagge, laboriose, ubbidienti. ma capaci di affrontare la vita le difficoltà della vita. Si legge nelle documentazioni di archivio che i benefattori auspicano per queste giovani orfane migliore vita economica ed esistenziale e materiale che abbiano aria, luce e riposo cure e affetto vero quell'affetto dimenticato o perduto. Ora siamo negli anni 70 alla Stella si affacciano nuove forme di bisogno non più riconoscibili alla mancanza dei genitori o a difficoltà economiche ma a disagi psicologici relazionali. Le stelline respirano i conflitti sociali anche se all'interno del palazzo. Lo spirito nuovo abbatte i muri, apre le porte e le stelline vengono trasferite nelle due comunità famiglia di via Poma e di via Curtatone. Le ragazze tolgono i panni di stellina e sono come le altre compagnie milanesi. Il palazzo che ha accolto le stelline per secoli ora dal 1980 è sede di incontri, di scambi e di iniziative culturali e dal 1986 si è costituita la Fondazione Stelline con il compito di promuovere iniziative culturali. Ora vogliamo ricordare e ringraziare le presidenti delle ex stelline. Sono Carlotta Glerici, Bonaccina Alice, Esther Barberis, Meregalli Antonietta, Zani Vittoria, Irene Lue, l'ultima nostra presidente dell'associazione, un personaggio che ha saputo tramandare con discrezionalità una tradizione secolare il fatto di solidarietà verso i minori in difficoltà. A lei vanno i nostri migliori ringraziamenti. Grazie a lei. Quindi ringraziamo Silvia Musazzi, il vicepresidente dell'associazione. Bene, dopo il presidente...